Era appena uscito dal medico, dove poco prima si era recato quando, colto da un improvviso malore, si è accasciato a terra rimanendo privo di sensi. È successo stamattina intorno alle ore 10 a Favara, in piazza Garibaldi, inutili tentativi di primo soccorso effettuati dal medico curante. L'uomo pare sia morto sul colpo a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Si tratta di RP, questo è l'iniziale del suo nome, di 76 anni. Sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118 e i carabinieri della locale tenenza, straziati dal dolore familiare a cui è stata già restituita la salma. In periodo estivo questi episodi sono più frequenti e colpiscono principalmente persone affette da particolari patologie. Proprio per questo i medici consigliano, se non strettamente necessario, di non uscire di casa nelle ore calde della giornata.